Ciao ragazze e benvenute su Mondo Cosmetic! Allora, in realtà ho appena finito di registrare un video velocissimo che ho già pubblicato nel quale vi dicevo che sono tornata e che appunto riprendevo alcune rubriche. Ho pensato, ho un pochino di tempo, perché non registrare subito il video, sfogliamo insieme l'album 8 ed eccomi qua. Sarà comunque un video breve, non mi soffermo tantissimo, ci tengo solo a farvi vedere un po' le novità che ci sono su questo catalogo che secondo me è stupendo, uno dei cataloghi più belli che è l'Ivoroce Album, uno degli album, perché non si chiama catalogo, uno degli album più belli che Ivoroce, insomma, ha lanciato. Allora, video brevissimo, ma aprite le orecchie. Allora, come vi dicevo, album 8, pieno di tantissime offerte, tantissime novità e tantissimi prodotti inizio delimitata. Questi sono alcuni dei nuovi mattitoni. Io non so se voi avete ultimamente visto le novità lanciate dai Ivoroce, comunque ci sono 59 tonalità di smalti, smalti effetto gel, tantissimi prodotti stupendi, li illuminanti, fard liquido, ci sono tantissimi tantissimi prodotti nuovi, stupendi e i prezzi sempre bassissimi. Per cui l'album 7 è stato quello lì dedicato agli smalti, quindi al lancio degli smalti. Veramente sono stati venduti tantissimi smalti, sono piaciuti tantissimo perché durano tanto, hanno un prezzo bassissimo, insomma, poi magari di quello ve ne parlo in un altro video. Comunque, su questo qui invece ci si sofferma un po' di più sul make-up, sulle offerte dei solari. Allora, partiamo subito con la novità che è stata lanciata sul mercato un paio di cataloghi, un paio di album fa, quindi di campagne fa, e sono i matitoni glossi. Sono dei matitoni molto morbidi e un po' insomma come quelli che comunque stanno già sul mercato, ma a differenza degli altri sono morbidi, sono brillanti e lasciano comunque appunto le labbra morbide, non seccano le labbra, ma hanno una buona tenuta. Non vi dico che vi dura tutta la giornata, che quindi sono di quelle tinte a tenuta estrema, però comunque durano veramente, veramente a lungo. Io vi dico, e magari su questo che poi faccio una recensione dedicata, che l'ho applicato, l'ho utilizzato un giorno, dove ho mangiato anche qualche cosa di unto, nonostante comunque non fossero formulati per resistere appunto tutto il giorno, mi hanno resistito, per cui vi farò poi un video specifico di questi matitoni. Comunque, c'è l'offerta fantastica, sono ritornati praticamente appunto in offerta come l'offerta lancio, forse anche un pochino di meno, se non ricordo male, e stanno a 7,95€, ci sono tantissimi colori, sono veramente fantastici. Poi, ragazzi, questo è imperdibile. La terra praticamente a 12,95€, chi conosce i prodotti sa che normalmente a catalogo, ad album, in offerta, si trova intorno ai 14,95€, per cui è un'offerta veramente strepitosa. Poi ci sono i nuovi fondotinta, questi qua sarebbero praticamente fondotinta pelle perfetta a 14 ore, che sarebbero una nuova formulazione di un fondotinta che già era stato lanciato sul mercato e che io adoro, e di cui vi farò assolutamente alla recensione. E sono in offerta a 9,95€, credetemi, è un prezzo assurdo perché non sono mai stati lanciati, insomma, con questo prezzo. Poi c'è, ragazzi, l'offerta stilo waterproof, io vi faccio vedere ovviamente le offerte più importanti, poi, insomma, magari il catalogo, poi, se qualcuna è interessata, insomma, vuole fare questa cosa, mi contatta, io magari vi posso anche inviare il catalogo, insomma, parliamo un po' di questa cosa, però, se già avete chi vi fornisce prodotti in live rossi, o comunque andate nei centri commerciali, negli store acquistate, e hanno, che non sono sicura che l'abbiano, che sapete che le offerte da catalogo non sempre coincidono, le offerte d'album, non sempre coincidono con le offerte, quelle lì, diciamo, degli store, anzi, quasi mai, nel senso che sono sempre più convenienti queste qua dell'album, fatene scorta perché sono alcuni colori in edizione limitata, e il prezzo è fantastico perché sono due stilo waterproof a 12,95€, ed è un prezzo veramente ripetibile. La stessa cosa, fantastici, gli ombretti mono, gli ombretti mono, anche in questo caso, sono due ombretti a 14,95€, prezzo singolo di ognuno è 9,95€, capirete bene, insomma, l'offerta veramente molto vantaggiosa. Poi c'è l'offerta del ombretto in crema, l'ombretto in crema più il mascara, tutti e due insieme vengono 14,95€. Ragazzi, io non so se voi avete mai provato il mascara, chiedo scusa, l'ombretto in crema dell'Ivro Sheer, è fantastico perché è facile da stendere, è molto molto, cioè è facile da applicare, si riesce a stendere bene, si sfuma bene, quando si asciuga poi dura tutto il giorno, ed ha la comodità rispetto ad alcuni che ho provato, che sono quelli in vasetto di altre aziende, di cui però magari voi comunque vi faccio recensione perché ne ho, a differenza di quelli in tubetto, questi hanno l'applicatore, e che secondo me è una comodità, perché io per esempio che non amo tantissimo sporcarmi le mani, faccio prestissimo, a parte l'ho utile, lo applico subito, non mi sporco le mani, non ho bisogno di utilizzare tantissimi pennelli o tantissime cose che si può applicarlo, e sono sicura che mi dura tutto il giorno. Quindi questo qua è un'offerta secondo me veramente incredibile, perché 14,95€, considerate che solamente l'ovo al prezzo dell'ombretto da solo costa 9,95€, per cui insomma... Poi come vi dicevo, le novità, queste sono le offerte in edizione limitata, allora troviamo l'illuminante, ragazzi è stupendo, io ce l'ho, lo utilizzo, è una cosa fantastica, perché sembra rosa, cioè è su base rosata, però non vi fa la scia rosa, nel senso che non dà neanche quelle perle extra luccicose, quasi brillantinate, ma è veramente luminoso, molto delicato, bellissimo. Poi c'è il fard liquido, questo qui praticamente che va applicato, c'è il roll on che si applica e si può sfumare sia con le dita che con le spugnetta, e poi ci sono delle tonalità di smalti in edizione limitata, vi dico già subito che stanno andando a rubare, ieri inizia, cioè praticamente questo qui è entrato in vigore il 10 giugno e già stanno andando fortissimo gli smalti, per cui se vi interessano, affrettatevi. E poi ci sta praticamente questo gel doccia, Blue Vegetal, che praticamente era un'edizione limitata e l'hanno riproposto qui su questo album. Andiamo avanti, vabbè ci sono tutti, io vi ripeto, scorro velocemente, perché altrimenti il video diventa veramente lunghissimo, ma giusto per darvi un'idea di quelle che sono le offerte di questo album. Ci sono le mascara, i fondotinta, le ciprie, queste sono un po' quelli che erano alcune delle colorazioni degli smalti che sono stati lanciati su album 7, quindi gli smalti laccati, gli smalti effetto gel, gli smalti metallizzati, gli smalti brillantinati, in tutto sono 50 tonalità nuove, e vi dico che durano tantissimo, hanno veramente una durata eccellente, può essere utilizzato anche un po' come tutti gli smalti, però questi qua veramente attaccano bene, anche da chi ha la colata di gel, e che quindi praticamente vuole cambiare ogni tanto colore, lo può fare, ovviamente ricordate di utilizzare un solvente delicato, senza citone, magari questi qua dell'Ivoroche, che è come, vabbè, c'è il nuovo gradiente di immersione, e c'è anche quello di classico, tutti e due senza citone, sono molto delicati, ragazzi, gli smalti sono veramente eccezionali, poi magari anche qui vi faccio un video a parte, perché io sono senza formaldeide, insomma, hanno dei componenti che non fanno male assolutamente, poi abbiamo, vabbè, la stilo, correzione, la, no, questo è la, la stilo per la French Manicure, poi c'è la stilo quella là, che vi aiuta ad eliminare le imperfezioni, poi ci sono i vari topo cotto, l'asciuga rapido, le coccine per le cuticole, tutti i pennelli, poi ci sono, vado avanti, i pennelli trucco, tutti i pennelli trucco, e poi, l'offerta sui solari, allora ragazzi, qua fate attenzione, perché questi qua, essendo gadget, vanno via subito, per cui, se vi interessano i solari, che sono comunque ottimi, e, però volete anche un regalo, aggiuntivo oltre ad avere lo sconto, tenete presente questa offerta, allora, qui avete, praticamente per due, l'acquisto di, di un set di due solari, che ovviamente loro propongono, che sono mediamente, dai 14,95€, ai 19,95€, dipende da quello che scegliete, il regalo riceverete, è un beauty case, ranzi è stupendo, è uno di quelli a semi rigidi, della misura, 26x18x12 cm, che è quello un po' più piccolino, se invece acquistate, il set solari da 3, che praticamente, è 24,95€, 29,95€, ma può arrivare anche a 34,95€, con la formulazione, quella più completa, potete avere invece, il regalo, il beauty, però quello di grande, quindi, il beauty, della misura, il 40x30x14 cm, anche qui ragazzi, i set di solari, stanno andando a ruba, per cui se vi interessano, fate subito gli ordini, questo è il, sono i, vabbè, le classi, i vari, le acque profumate, la linea monoe, insomma, che fantastica, è adorata da tutti, soprattutto nel periodo estivo, e poi ci sono tutti, gli integratori alimentari, vado subito alle offerte, perché chi ha già provato, gli integratori alimentari, se non l'avete fatto, fatelo, perché sono, sono sicurissimi, e sono efficaci, magari se avete qualche dubbio, sui prodotti, contattatemi in privato, vi do tutte le spiegazioni, di cui avete bisogno, ci sono le offerte, delle due confezioni, appunto, a prezzo, ultra conveniente, non ve le dico nello specifico, vi ripeto, casomai, ci date un'occhiata, e le vedete un po', vado abbastanza velocina, e poi, qui per esempio, c'è l'offerta, del set anti rughe, della nuova linea, serum, di questa parleremo, con calma, in qualche video, prima, perché sono le nuove linee, di, diciamo, anti rughe, e una formulazione tutta nuova, specifica, testata, elaborata, per cui, insomma, veramente fantastica, e su questa ci dobbiamo spendere qualche parolina in più, quindi, insomma, ci sono queste offerte, poi, vabbè, le linee, quelle là che già conosciamo, e qui c'è formato nuovo, della linea, idra vegetal, sempre la stessa formulazione, ma con un vasetto, ovviamente, sempre di rispetto all'ambiente, riciclabile, o tutto sempre un po' come è, con questo la base di pensiero, di live rocce, nuovi vasetti, poi, vabbè, abbiamo le offerte sui prodotti, sebo vegetal, che sapete che la linea è dedicata alle pelli, alle pelli miste, e poi abbiamo, vabbè, questa qua, qualche albumo fa, è stata lanciata appunto, l'acqua profumata, appunto il morosa, ed è buona anche come fissante per il trucco, poi anche di questo ne parliamo più avanti, la linea bio, che sapete, i brocce fa le linee bio, tutta la linea per i piedi, i mari, questi prodotti per l'anticellulite, ed era, lo prendo perché, vi ho detto, l'avevo registrato prima, all'altro video, sto preparando i pacchetti per le clienti, perciò ce l'ho qui davanti, eccolo qua, e questo, e c'ho anche questo, che mi sono stati ordinati, quindi insomma, sono veramente, sarebbero questi qui, sono veramente fantastici, poi tutti gli shampoo, che sapete, sono senza siliconi, insomma, tutte le proprietà che hanno, ne ho già parlato ovviamente in un altro video, tutti i profumi, e poi andiamo su questa qui, che è una, anche questa è una grandissima novità, della Le Presse de Nature, che praticamente sarebbero quelle linee, che chi già conosce i brocce, sarebbero il latte corpo, bagno corpo al cocco, vaniglia, avena, olio d'oliva, ecco, queste sono state lanciate sul mercato, queste qui che sono, mela verde e anice stellato, questa qui verde, in realtà è questa qui, che io ce l'ho, perché, vabbè, l'ho presa con un altro album, che essendo capogruppo, poi vi ho appunto magari, vabbè, comunque ce l'ho, questa qui, e poi, c'è quella di limone e basilico, anche qui c'è lo esfoliante, c'è il detergente, la crema corpo, e poi ci sono anche i mini, se nel caso volete partire, vi volete portare i mini, e prezzo l'azione 1,95 euro, per cui, questa e qua sarebbe appunto, la linea di cui parlavamo, questa è quella classica, quella lì di prima invece è la nuova, se non sbaglio, in edizione limitata, poi ci sono i deodoranti, e ritorno all'offerta di gel doccia, il gel doccia che ritornano, a 1,95 euro, e chi conosce gel doccia, sa che sono fantastici, sono pratici, perché possono andare nella borsetta, nella borsa, sono veramente pratici, bellissimi, e 1,95 euro, un prezzo fantastico, e a 1,95 euro, trovate anche quelle, la fraganza di carambola della Malesia, il fiore di tiare della Polinesia, che sono due profumazioni, ultime uscite, niente ragazzi, sono andata abbastanza veloce, perché volevo fare un video, non lunghissimo, spero che non sia venuto effettivamente, lunghissimo, vi ripeto, se avete già, a chi vi fornisce i prodotti, contattate subito le persone, che vi possano far vedere il catalogo, e approfittate subito delle offerte, perché veramente, è un album fantastico, che già sta andando alla grande, se non avete invece, se invece andate allo store, andate e vedete cosa trovate, perché non vi so dire le offerte degli store, altrimenti, insomma, se volete contattarmi, sia per gli ordini, o per fare anche voi, questo lavoro, che io ritengo sia fantastico, divertente, io mi diverto, lo trovo pratico, vabbè, poi vi spiego, casomai, mi contattate in privato, e io sarò lì, te darvi tutte le informazioni, ragazzi, lasciateli conquistare, dalla Ivoro Shea, ve lo vi dico veramente col cuore, perché sono prodotti fantastici, niente, vi ringrazio per avermi seguito, spero che sia stata chiara, anche se ho parlato abbastanza velocemente, lo so, però non volevo fare un video lunghissimo, non vi volevo annoiare, e niente, vi rimando al prossimo video, prossimi vlog, prossime recensioni, pensavete, volevo fare un vlog, quando ho fatto il corso di make up, il corso di make up base, con Davide Balosetti, che sapete, del make up artist fantastico, dell'Ivoro Shea, ho fatto il corso, tra un po' farò quello intermedio, e volevo portarvi con me al vlog, però siccome sono poco esperta, in queste cose, non mi era accorta di avere il cellulare scarico, per cui, ho iniziato a registrare, però già mentre stavo mandando, si è scaricato il telefono, la memoria, ma proprio la memoria, era piena, per cui in realtà, non ho registrato nulla, mi rifarò magari, se vi fa piacere, con il corso intermedio, vi porto con me, fatemi sapere se vi va, niente ragazze, fatemi sapere, anche se avete voglia di vedere, qualche tipologia di video differente, niente, io sono qui, un bacio ragazze, ciao!